Ecco stamani, proprio stamani, portando fuori il cane, sono uscito alle 3.40, era una nottata di grande vento, e quindi dopo essere stato in un parco giardinetto abbastanza riparato, ho deciso di andare a porta a mare, lungo una sorta di corridoio, un porticato stretto, protetto dal vento, a un certo punto, a un certo momento, vedo lontana fra le colonne una busta, strana mi sembra lontana, quasi una maschera nera, quelle buste nere della spazzatura rotolate dal vento, la sento, una busta nera che sembra però strana, una maschera, mi avvicino e scopro, mi accorgo davvero che è una maschera ribaltata, una maschera ribaltata questa, una maschera di pulcinella, che mi sento, a quel punto la indosso, come premiato, mi sento premiato, come se fosse un enorme riconoscimento, come se l'intera realtà mi riconoscesse premiabile, leggibile, consegnandomi così una maschera, quella che io mi sono anche autoprodotto, consegnato, come Sai Baba trasformava dal nulla il niente dell'aria, il qualcosa, le molecole, le forme in anelli, così io, la realtà per me, io stesso, la realtà con lei, confuso, premio, premiato, premiante, premio a me stesso, concreto, da una busta nera, una maschera, è una maschera di pulcinella, cosa mi dicono tutti i fantasmi della cultura, cosa dico a me stesso, fantasma della cultura? Sempre io ho avuto il naso tondo, tondo, un naso tondo, lo faccio vedere, un naso tondo, 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 di pulcinella, scusate, di arlecchino, quel naso da arlecchino, un po' porcello, porco, che viene dalla campagna, un naso bergamasco, un naso che grufola nella terra come il mio, che sono d'origine ovviamente anch'io contadino, poi si fugge, va a Venezia, si fa da corte, si fa da repubblica, da casa servitore, i due padroni, ma questa volta la maschera non è di arlecchino, è una maschera di pulcinella, c'è maggiore tragedia, c'è maggiore tragedia, c'è maggiore tristezza, malinconia in pulcinella che in arlecchino, è questo il mio cambiamento, dico, è questa la mia evoluzione, il mio aver superato lo stadio, lo stato infantile, mi sembra questo però quasi, come dire, una sorza, una scorza ulteriore, una mossa, una botta verso la la melanconia, la melanconia, ma che c'è in effetti di differenza fra i due? Certo, sicuro, c'è la relazione col mare, arlecchino l'acquista gradatamente, diventa poi al fine di laguna, lagunare, salmastro, ma invece c'è in pulcinella totale l'emergenza dal golfo, dal vulcano, c'è una natura demoniaca che lo sposa più fortemente all'acqua marina, all'onda, all'onta che il mare porta con sé, quel mare diciamo più dichiaratamente meridionale, meno ansiatico, più aperto, anche borbonico, anche vulcanico, pure arlecchino è sul furo diabolico, ma c'è una componente probabilmente più ctonio-nettuniana paradossalmente, del fondo marino in pulcinella, infatti il suo naso si conduce grecamente, no? Come se fosse un arco diretto verso il basso, si fa quasi volendo anche atroce arpia e al contempo di estrema malinconia si conduce, pensiamo alle riletture che ne ha dato, ne ha date splendide, prima il tiepolo che l'ha trasferito come icona nelle ville venete e poi più recentemente ebraico e anche così grafico e marionettistico con quelle modalità di movimento della camera passo 1 che ha fatto, non ricordo il nome di nuovo, non ricordo il nome adesso, che poi ne ha fatti cartoni animati e quindi mi sono autopremiato con questa persona, con questa maschera persona, la maschera nella latinitas come nella Grecia, la persona, più nella Grecia credo io sono ignorante di lingue diciamo morte, ma che cosa allora questa pulcinella, questa pulcinellica presenza così ritrovata mi dice, mi dice che io sono dove sono sempre stato e dove sono sempre stato io, dove mi sono sempre condotto io, dove mi sono condotto io, mi sono ovviamente 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 condotto dalla cultura popolare nella quale nasco, cresco, dalla quale arrivo come geneticamente anche culturalmente prodotto da una famiglia, da due famiglie di estrema radicamento, di estremo radicamento popolare, proletario, anche sotto proletario, quello del mare, no, dalla parte di mia madre, così marina, portuale, e la cultura alta, che cosa sono poi le maschere, la maschera anche di pulcinella, se non quel veicolo che sempre rende possibile il passaggio dalla cultura orale parlata popolare, dalla messa in scena teatrale agli angoli della strada, nei teatrini, nelle baracche dei burattinai, da qui appunto alla cultura alta e poi dalla cultura alta a riscendere giù alla cultura, ovviamente proletaria. Mi metto un cappello bianco di pulcinella, non so se farlo, meglio non farlo, oppure farlo proprio farlo. Quello che io faccio anche qui dentro YouTube è questo, portare dentro questa dimensione che non sappiamo se sia più orale, più popolare o di cultura mediata, sicuramente mediata, ma di una mediazione che trascima verso l'oralità, anche se profondamente subscritta, sottoscritta, tenuta scritta ovviamente dalla tenuta scritta ovviamente dalla dimensione subterranea, alfanumerica, che contiene, mantiene la registrazione di suoni e parole, ma sempre questo è un momento in cui sia possibile, diventa possibile trascimare, passare continuamente in pratiche osmotiche di varia notura dalla cultura alta alla cultura bassa, dalla cultura scritta, che si fa storia della letteratura, storia del teatro, a quel diffondersi, di diffondersi, di sperdersi in pratiche comunicative, che invece si mantengono nelle dinamiche dell'oralitas, dell'incontro popolare nelle strade. Questo io in qualche modo sono e dunque mi sono premiato con la maschera di pulcinella, mi sono premiato con questa maschera di pulcinella, perché sono radicato in questa città di mare e tendo nella mia attuale natura ad essere straordinariamente partenopeo, un demone partenopeo. Sono innamorato della dimensione della cultura napoletana, questo condursi per strada, relazionarsi, aprirsi attraverso pratiche anche, no, di inaspettato confronto ironico a decostruire la relazione che conducono quasi tutti convenzionalmente, con un contesto convenzionato, del quale si vuole dimenticare questa natura appunto così strutturata su convenzioni, così come arpia pulcinella, come malinconico pulcinella. Mi vado, mi introduco a condurmi, ma anche a, come dire, produrre qualcosa che possa creare scompiglio, che possa creare disdoro. Sono in ogni caso comunque votato alla paupertas, alla povertà, alla povertà alimentare, sebbene sia così grasso, ma è una grassezza legata a colui che tutto mangia di quel che trova nei pressi anche dell'immondizia, e ormai è tutto, ogni condursi in tavola immondizia, pensate all'immondizzaio che sono le trasmissioni sulla cuscina, una vera immondezza, immonnezza, monnezza culturale totale, spacciata per senso, per sensatezza, quale, quale, quale tristezza direi, quale tristezza questa, questa monnezza televisiva, eppure io sono televisivo, in fondo la dimensione italiana, eppure rivendico questa italianità diffusa, scomposta, scombinata, dialettale, le maschere sono profondamente queste, italiane, arrecchino come pulcinella, ma ancora più pulcinella, approfondato nella meridionalità, se Venezia è il meridione d'Europa, Napoli è il meridione totale della Italia, la centralità del farsi solare, del farsi eruttivo, vulcanico, e al contempo con una componente dell'unica marina nettuniana, in fondo pulcinella è un nettuno, anche un satiro marino, e poi è bianco, c'è nel bianco la confusione di tutti i colori, diversamente dalla diffrazione che si ha sull'abito di arrecchino, che io vedo anche come prodotto dalle macchie, che, come dire, si depositano, ma questa bianchezza, questa purezza di pulcinella, è la purezza della confusione totale cromatica, della confusione totale cromatica, questa di pulcinella è la confusione totale cromatica, ovviamente, questa di pulcinella è una confusione totale cromatica, per cui si arriva al bianco come sovrapposizione cromatica di tutti, di tutti, di tutti i colori, sovrapposizione cromatica, confusione di tutti i colori, ne fa di un bianco che, in oriente, sappiamo il bianco essere, ovviamente il bianco colore del lutto, ma poi c'è questa maschera nera, negra, ho anche pensato che, come la maschera ho trovato, trasformarla, rifarla di carta, ma invece questa sua plastica natura, mi sembra paradossalmente ad oggi più dura, una maschera dura, nera, lucida, con questo becco, come dire, affamato, desolato, di filosofo napoletano, della magna grecia, al contempo d'arpia, un'arpia vorace, pronta a ghermire ogni sorta di nuova esperienza, ogni sorta di nuova esperienza, questa arpia così pronta a ghermire, mi sono in fondo premiato, la realtà si è concretata in maschera, dicendomi che quello che devo continuare a fare è portare la cultura dal basso verso l'alto, dall'alto verso il basso, in questo continuo processo d'osmosi che è la persona, in fondo cosa io ho sempre più di ogni altro oggetto eletto ed amato, se non la maschera, da sempre ho amato condurmi in maschera, in mascheramenti, questo prima d'ogni pratica, anche della pratica del disegno, ma pure i quadri, per me altro non sono, se non maschere, se non persone, altre coperture, alla mia struttura, alla mia modalità di velare rivelando, sono rivelazioni, come diceva non so chi, forse quell'antroposofo, antropologo, filosofo, che ogni rivelazione è una ricopertura, quindi quadri altro non sono che ulteriori coperture, rivelazioni, veli, che vengono sovrapposti e al contempo nel porli si mostra qualcosa, si offre una visione, io sempre ho amato offrire a me stesse e agli altri visioni, come di farmi appunto visionario, cioè portatore di visioni, anche di confronti con le visioni più convenzionali, tradizionali, a mostrarle appunto convenzioni, allora quale altra maschera potrei condurre, ma a questa mi hanno portato, con questa sono stato ora premiato così, molto, molto così premiato, premiante, alcuni si sono scandalizzati per alcune mie nuditas, ma io dico io sono un'opera, queste nuditas non sono reali, sono mediatiche, sono statuarie, come sia sensato condurre a vedere un maschio così penicamente ridotto, non in erezione, una sorta di opposizione a tutte quelle pornografiche o scene, manifestazioni erettive, che io trovo assolutamente insensate quanto a potenziale educativo, ma invece quanto educante una nuditas con un maschio che accetta la propria assoluta così struttura anche di nessuna potenza, di impotenza, ecco è una maschera, quella di pulcinella forse, che coglie anche la dimensione dell'impotere, del sottrarsi al potere, nella lettura che ne fa nel suo cartone animato, non ricordo ancora il nome, ma quale diciamo mia deficitaria relazione con la memoria, non ricordo il nome di quest'autore, lui lo vede sempre più, come dire, sottrarsi alla fame, al mangiare, alla fine quel suo pulcinella si nutre forse di fiori, di garofani, si fa così fuori, fuori ogni possibile relazione col potere, si fa fuori dalle pratiche del potere, si rende invece piuttosto, come dire, assolutamente l'autore di assenza di potere, di impotenza, è allora una nudità impotente, una nudità che evoca le potenzialità, ma che non si manifesta erettile, piuttosto anerettile, è una nuditas che offre a tutti i maschi la possibilità di accettarsi nella loro condizione di penica in presenza, piuttosto che fallica, così assolutamente logocentrica presenza, è un dislocamento, un collocarsi piuttosto testicolare nella parte genomatica che ci assorella alle donne nella loro gonadica e a nostra speculare gonadicità, e fare così invece del fallo una sorta di frutto piccolo compresso, non quel colonnare, quello stilitico, e alla fine esibitivo luogo del convenire dell'immaginario del potere maschile, piuttosto invece accettare la rugosità, la compressione, sapete che nelle culture maschili fallo logocentriche la sottrazione del prepuzio è vista come l'eliminazione del femminile nel maschio, quella parte così di pelle, così mobile, così morbida, anerettile, deve essere eliminata perché è quella che testimonia la fragilità del maschile, allora mosca, mostrare, no, un pene nella sua postura, così di statua, nella sua di ridottissima, quasi clitoridea presenza non fa altro che offrire ai maschi la possibilità di accettarsi come anche strutturalmente fragili, plastici morbidi, femminili, piuttosto che costretti all'esibizione stilitica, l'esibizione insopportabilmente appunto del potere fallo logocentrico, basta col fallo logocentrismo, basta assolutamente, stop al fallo logocentrismo, via, 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 via da ogni tentazione che vada in in questa direzione, piuttosto, come dire, mostrare una virilità che accoglie la sua natura anfrattuosa, anfrattuale, prepuziale, testicolare, gonadica, così generativa, assorellata, quella femminile delle donne, naturalmente. Oh, quindi una maschera premio di Pulcinella a me, che sono adesso tonio di una marinità, di una telluricità sottomarina, quella del Golfo di Napoli, quella della presenza lavica nella... profondità dell'urica del mare, un nettuno, un arpia, un povero, un miserando, un sottoproletario, che si barcamena nella gestione della propria fame, ma che vuole sottrarsi ad ogni pratica di potere, e che in questo suo incedere, dal teatrino, dalla baracca, del burrattinaio, ai teatri, allo scarpetta, ai De Filippo, fa di se stesso un continuo... travé, un continuo migrante fra la cultura del popolo, spacca napoletana e quella invece alta, e colloca, prova a collocare queste mediatiche presenze di sé in questo processo suo di elaborazione della relazione fra la cultura alta e la cultura bassa, fra la cultura alta e la cultura bassa. ci prova, non sappiamo se ci riesca, intanto sono stato premiato dalla realtà stessa, intanto mi sono autopremiato, intanto mi sono autopremiato, intanto sono, come dire, in questa ritrovata natura di maschera alla quale sempre ho aspirato, come oggetto di lezione, anche un mantello da indossare, per me era già una maschera per trasformarmi in una creatura d'aria, volante, sospendente, si fuggende, 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 sono le pratiche umane, ecco, c'è la volontà dell'umano di trascimare nel minerale, nel vegetale, nell'animale, attraverso la maschera, sono così più simile a un'orchidea nera, ad una pantera, a un corvo, a un sasso, a un sasso di aspro nero, un gabbro marino, rotolato nei pressi del golfo di Sorrento, ecco, questa è la maschera, una pratica di metamorfosi, di mutamento, ecco, questa appunto, questa è la maschera, questa è la maschera, una pratica di trasformazione, di mutamento, vedi, quanto, quanto bianco, quanto bianco, metto il bianco e ne faccio fondamento di evidenziazione di me stesso, quanto bianco metto dentro, quanto bianco, mi sono regalato, mi hanno premiato con questa maschera, mi sono regalato, mi hanno premiato con questa maschera, mi sono regalato e con questa mi sento più, un acaro, una pulce, una viola del pensiero, col suo cuore viola pensée, giallo e l'esterno giallo, il cuore nero, nero come quello di un gatto, di un gatto oppure di una tartaruga liuto, oppure di un grande, di un grande menhir, al quale votarsi, di un grande sasso, di una roccia, di un faraglione, in fondo, cos'è, Pulcinella, se non l'emanazione di un faraglione, l'espressione dell'energia del mare, la sua volontà d'amare, e del suo trasformarsi, poi miseramente condursi, apparentemente come umano, ma demone naturale, sono così, da me stesso, fattomi realtà concretata in maschera, sono questo, sono questa maschera, nient'altro che questa maschera, forse ho finito con questa maschera, tutto il mio percorso, o forse l'ho solo iniziato, cosa debbo fare, come mi debbo continuare a condurre, mi sento, mi sento una gazaladra, mi sento un'upupa, mi sento un ciottolo, che rotola su una strada, che trascima su una spiaggia, portato condotto fluvialmente dall'acque, d'una fiumara, piuttosto che una foglia, resa cuoio dal sole, d'una magnolia, plastica, devo accettare la plastica, speriamo si facciano meduse danzanti, al nostro posto, nell'oceano in futuro, speriamo si facciano meduse danzanti, al nostro posto, sono una medusa nera, una caravella portoghese, sono, ho fatto di una busta da spazzatura, a me stesso, regalo di maschera, per ricordarmi quello che sono sempre stato, aspirante al cambiamento, al rivelamento di me stesso, con strumenti che mi fanno sorella, fratello sorella, al bitume che sta sul fondo delle torbiere, alle oscure conchiglie concretate in fossili, sulle colline, a uno scarabeo stercorario, che rotola se stesso, quale palla di sterco, sono un'enorme palla di sterco, e lo stercorario stesso, e in questa io incunio, infilo nel mio stesso, nel mio stesso escrementizio, condurmi le mie uova, le mie semence, i miei semi, che porto dall'alto e dal basso, contaminandoli, sono un coleottero, sono l'elitra di un coleottero, sono, come dire, la superficie dura, d'un cervo volante, sono piuttosto una ghianda, di quercia rilucente, oppure la plastica, superficie riflettente, falso ebanica, di una, non lo so, bachelite, del secolo scorso, sono un disco, un disco nero, solcato, di chi, di satì, piuttosto che di berio, sono, ancora, lo vedi, quello che appaio, una grassa, palla, rotolante, trascinata da me stesso, scarabeo, sterco, orario, cronologico, condurmi, un corpo, grasso, di scarabeo, sterco, orario, ecco, quello che sono, un corpo, grasso, di, scarabeo, sono il gioco, dello scrabble, sono pure, un riddle, eh, un enigma, sono piuttosto, una chiara rivelazione, il ricoprimento, il porre sopra alla mia testa una maschera, lasciando fuori il mento, così, 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 mi paramento, come un insetto, un fiore, una foglia, un pesce combattente, il nido, d'una vespa muraiola, una formica, un insieme, una fila, una, una fila di formiche, che ora si intrecciano, ora si slacciano, a sommo di minuscole, cosa minuscole, fo, formiche, quel nero rilucente, sull'addome segmentato, della formica mica, son questo, mica, scaglie di mica, quel selenio, quel minerale, che sta al fondo, delle resistente, delle resistenti, resistenze, mica nero, nero, come l'ossidiana prodotta, prodotta in effusioni, esplosive, contenute dal Vesuvio, ecco una maschera, sono io stesso, ossidiana, diana, cioè osso, osso duro, di diana morbida, 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 da sempre eletta, da noi diva, sono io pure trivio, questo è pulcinella, la possibilità, di morire, portando, sapere, dalla cultura orale, a questa registrata, e qui in ambigua maniera, condotta, conducibile, mi sono regalato una maschera, mi sono fatto, concretato, realmente, io fattomi, tutto il resto, della realtà, mi sono regalato una maschera, una persona, una persona, una maschera, mi sono regalato 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 una maschera, mi sono relegato, relegato in questa maschera, mi sono relegato, mi sono regalato, rilegato come un libro, con le pagine sfatte, rilegato, contenuto, dato un formato, una convenzione, un paradigma a me stesso, a quello che dico, un contenitore, di nuovo la tradizione, mi sono relegato in una maschera, mi sono relegato, fatto libro, così scritto in pratiche di scrittura alfanumerica sottostante, mi sono re, come re, legato, legato come re, come anche, come dire, portatore di notizie da parte di una reale, reale realtà, in un contesto che è quello ri, 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 rilevante, rilegante, coattivo, di schiavo, di schiavo, di schiavo, chiuso, dentro la resina, come un insetto, nella resina ambra, nera, sto come insetto, incluso in questa resina, rilegato, mi sono rilegato, relegato in una maschera, mi sono regalato nella convenzione, a segnalarla, trascimando dalla convenzione fuori, trascimando fuori, dalla convenzione, trascimando fuori, dalla convenzione, trascimando fuori, dalla convenzione, trascimando fuori, dalla convenzione, Convenzione, mi sono regalato, regalato, regalato una, una, mi sono regalato, regalato una, una maschera, una maschera. Si, 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 a regalato una maschera.